Che è successo? Che volete? Dov'è la camera di impastato Giuseppe? Sopra, perché? Sopra, forza! Forza! Giuseppe non era terrorista e non si è suicidato. Io zitta non ci sto. Io a me figlio lo difendo e lo difenderò sempre. Finché ci ha gli stocchi aperti. Venga, l'accompagniamo in casa. Tu a me ammattuccare. Manco il coraggio di affrontarmi. Ma chi ti crei che vi credete di fare scandare a mia? Diccelo al padrone tuo e a tutti i compari tuoi che vi faccio finire esauriti in galera. E ve lo ricordo io chi era me figlio. La mafia uccide. Silenzio pure. Il peccino è vivo e lotta insieme a noi. E le nostre idee non moriranno mai. Facciamo il processo. Portiamovi dalla mente in tribunale. Riconosce quell'uomo nello schermo? Che ha certo, cauganus? Ve l'avevo detto che questo giorno veniva. Tu hai ammazzato me figlio. Sì. La mia ammazzata è arrivata.